Ciao a tutti ragazzi sono sempre io per il 25 di vita e oggi vi porto la mia quinta raffle E' una veramente una raffle molto speciale dopo che avevo finito di fare la raffle più grande di youtube con X, Shiny eccetera Sarà veramente una raffle fantastica, quella la più grande ma anche questa sarà fantastica, molto richiesta da voi ragazzi E le regole ve le dico dopo, prima vi farò vedere i premi Allora innanzitutto molti conosceranno il TGCO, ovvero trading card game online Molti ci giocheranno, molti no e appunto per quelli che non ci giocano io ho messo in paglio due carte O Tornulus o Tornadus, il vincitore si potrà portare a casa o Tornulus o Tornadus e tutti questi codici online Senza ve li sto a contare ragazzi vi dico che sono 85 codici online Penso che è la raffle più grande del TGCO online su youtube Sono veramente tantissimi codici ma la novità di questa raffle è che La raffle si comporterà a 700 iscritti ma ora io ho 85 codici Mentre io arrivo a 700 iscritti che adesso sto a 530 Dopo che arriverò a tutti questi iscritti poi 40, 50 eccetera Poi 650, io continuerò a comprare i pacchetti ragazzi Quindi tutto il ricavato dei pacchetti Ovvero tutti i codici che troverò nei pacchetti si aggiungeranno a questi qua Quindi se adesso sto a 35 magari quando vincerete voi staremo a 150 codici Spero che avete capito ragazzi E' veramente una raffle fantastica ragazzi Iscrivetevi le regole sono semplici Allora Mettere mi piace Uno Iscriversi al mio canale Commentare E poi mettere mi piace alla mia pagina facebook Lo so molti di voi non hanno la pagina facebook Ma comunque penso che il mi piace alla pagina facebook lo potete mettere comunque Si penso che si può mettere nello stesso il mi piace anche se non siete iscritti a facebook Comunque se siete iscritti lo mettete per partecipare Poi la quinta regola è Tanto le troverete tutte in descrizione ragazzi La quinta regola è aggiungere questo video ai vostri preferiti E poi è tutto qua Ve le ripeto Mi piace Commentare Iscriversi Aggiungere questo video ai vostri preferiti E mettere mi piace alla mia pagina facebook Il link sarà tutto in descrizione Non vi preoccupare Metto tutto in descrizione E' veramente una raffle epica Ho volutamente questi due premi Perché molti non giocano al TCC online Quindi Per chi non gioca si potrà portare a casa O Tondurus o Tornados Più Una carta molto speciale Che si porterà a casa il vincitore Che potrà scegliere Dal mio Album Oltre a questa O quella La raffle è veramente una raffle epica Vi ripeto si concluderà 700 iscritti Non ci sta la doppia iscrizione La doppia iscrizione ci sta solo Ed esclusivamente per chi mi fa Un FCBM E' solo per chi si fa un FCBM Quindi Spero che avrete visto tutto il video Le regole le sapete E niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Vi ricordo che devo caricare ancora Ci stanno i box di Freezeable e Cold Flare Che devo caricare Ancora non l'ho aperti Quindi il mio canale Ci saranno anche grandi aperture E niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi Ciao Da Fai di un'altra 5 vita Ciao ciao